Giorno di festa ieri a Valfornace dove sono state consegnate le chiavi delle ultime 48 SAE sulle 152 complessive. Cerimonia unica per circa 380 persone nel giorno di ricongiuncimento della comunità insieme famiglie anziani, tra loro anche Raul Lucarini, 105 anni, simbolo della longevità marchigiana e la signora Varnelli, presidente della nota distilleria. Un segnale di ritorno alla normalità e di ripresa della vita a quasi due anni dal devastante evento che ha colpito il comune, nato dalla fusione tra Preve Bovigliana e Fior di Monte. Oggi una bella giornata che arriva a conclusione di un lungo percorso che ci ha portato a ricostruire 156 solo qui a Valfornace, oggi ne consegniamo 48 e ricostruiamo finalmente questa comunità che era dispersa dopo l'evento. Un fatto importante, un segnale di speranza non solo per Valfornace ma per tutto il territorio che noi vogliamo fare in modo che possa essere ripopolato, ricostruito nel più breve tempo possibile, ovviamente data la situazione che conosciamo tutti qual è. Le aree dove sono state disposte le casette a Valfornace sono Piazza Vittorio Veneto, Fior di Monte, Piani Campi e San Giovanni XIII. 152 SAE in tutto per un totale di spesa che ammonta circa 13 milioni e 968 mila euro. Le ultime abitazioni le cui chiavi sono state consegnate davanti alla scuola o gobetti si trovano in piazza Vittorio Veneto. Sono felice di assistere sempre più spesso fortunatamente a questi momenti dove le comunità si ritrovano, dove lo Stato conferma i suoi impegni, con l'umiltà di sapere che a volte le cose non sono perfette e che dobbiamo continuare a sforzarci di migliorarci, però quando si raggiungono questi obiettivi mi fa piacere che tra di noi, perché un po' mi sento parte di questa comunità, ci rendiamo conto che le cose che ci siamo dette le stiamo facendo. Ieri abbiamo anche approvato un'ordinanza ulteriore di semplificazione per la ricostruzione privata, semplificazione delle procedure dei comuni che sapete hanno un ruolo importante per il rilascio di alcune autorizzazioni, continuiamo a concentrarci nell'analisi dei problemi che emergono tutti i giorni, provando ad affrontarli tutti i giorni. Commosso il sindaco che nel condividere con la popolazione il momento definito Nuova Alba, ha sottolineato che si tratta di un punto di partenza importante, per cui vanno ringraziati tutti coloro che ci stanno lavorando. Oggi veramente è una giornata di festa perché si riunisce una comunità, si riunisce completamente, noi abbiamo fatto delle altre consegne parziali ma oggi con queste ultime 50 SAI riuniamo la comunità tutta, tutte le persone che hanno chiesto di poter tornare qua in queste soluzioni abitative d'emergenza, con questa mattina verranno accontentate. Un'emozione particolare, abbiamo forse la persona più longeva che riceve, che è assegnatario di una SAI in tutto il cratere, che ha 105 anni. Ancora da lì si vede anche lo spirito di voler tornare nei nostri spendi di paesi. Quindi ringrazio tutti, un ringraziamento al commissario Parote Micheri, alla regione, tutte le ditte che hanno lavorato, anche gli operai che sono stati qui con il freddo, con il caldo e che hanno fatto sì che si avvenisse un sogno per noi, per la nostra amministrazione. Io ringrazio tutti, Protezione Civile, sicuramente scordo qualcuno, abbiamo il direttore dei lavori, abbiamo i progettisti e tutte le persone che ci hanno seguito lungo questo percorso. Noi magari abbiamo ricevuto qualche critica insieme anche alla regione ma ce lo siamo già portati alle spalle perché solo chi lavora sa quali sono state le difficoltà e tutto quello che abbiamo provato per riuscire a raggiungere questo traguardo. Un ringraziamento da parte dell'amministrazione del Comune di Valfornace a tutti quelli che hanno fatto sì che si potesse riabbracciare tutta la popolazione, quindi grazie ancora a tutti. Con Valfornace le SAI consegnate sono in tutto 1644, sulle fa bisogno di 1945.